Allora, come ogni anno la Festa del Pesce ringrazio tutti i collaboratori, lavoratori e nonni, tutti quelli che hanno dato in qualche modo, direttamente o direttamente la mano. Paolo, il bilancio di questa Festa del Pesce, sei soddisfatti, com'è andato? Sì, quest'anno è stato un bilancio molto positivo, una delle migliori edizioni, sia come risposta del pubblico, sia come organizzazione. E questa non è la prova, perché questa festa si basa sulla collaborazione di centinaia di volontari, tutti quanti che mettono la loro opera a favore di questa festa. Come vediamo qua sono tantissimi, tantissimi e tanti altri non sono venuti pure, perché non è che ci sono tutti. No, no, infatti, questo è un semplice modo per ringraziarli tutti, perché se la Festa si basa sulla collaborazione, è buono che questa collaborazione venga cementata ancora di più. E queste occasioni servono un momento di amicizia e di socialità. Grazie Paolo, speriamo di sentirti suonare con i D'Amorre, che sarà più bella realtà musicale negli ultimi anni così da. Ti ringrazio, noi siamo sempre a disposizione. Grazie.